Ripartono i lavori sul viadotto Puleto e sul ponte Tevere 4, lungo la E45 in provincia di Arezzo. L'intervento di manutenzione rientra nell'ambito del piano di riqualificazione avviato da ANAS. I lavori erano stati sospesi, come previsto, durante la stagione invernale, al fine di consentire le attività previste dal piano neve in accordo con le autorità locali. A causa dell'emergenza Covid-19 era stato poi necessario prolungare la sospensione, come richiesto dalle imprese esecutrici, per consentire alle stesse l'adeguamento dei cantieri e degli alloggi alle nuove norme per il contenimento del contagio. I lavori riguardano in particolare il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico, l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza, il rifacimento delle solette dei giunti per un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro sul viadotto Puleto e 24 milioni di euro per il viadotto Tevere 4. L'ultima azione dei lavori sul viadotto Puleto è prevista entro l'estate, per il viadotto Tevere 4 invece la durata contrattuale è di 1.050 giorni complessivi, con sospensione dell'attività nel periodo invernale dal 15 dicembre al 15 aprile, per garantire la circolazione senza interferenze durante la vigenza del piano neve lungo l'itinerario E45. Nel gennaio 2018 per il viadotto Puleto scattarono i sigilli per ordine dell'allora procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, rischio collasso l'ipotesi formulata dal magistrato Aretino. Il ponte venne così chiuso e l'Italia per mesi si ritrovò di fatto spaccata in due. Nello scorso maggio invece aveva ceduto un giunto di dilatazione nel viadotto Tevere 4, con la conseguente chiusura di una corsia e deviazione del traffico, insomma interventi di manutenzione più che mai necessari.